come dice? sta riparando la macchina? ah bene eccellenza tra poco arriverà benissimo eccellenza, l'aspettiamo buonasera eccellenza lei non ha mai sentito parlare di un certo dottor Tanzarella? Tanzarella, 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 Tanzarella ma si, è quello che gli ha salvato la vita lei non sa niente, no, è il medico personale di fiducia di lui lui? lui, 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 a lui, al nostro duce quando il ministro saprà che sei tanto amico del suo medico il medico del ministro? no, del duce ah bello, del duce ah no, mi dispiace eccellenza, ma a me certe cose non possono assolutamente succedere ammettiamolo? no, non ammettiamolo proprio, guardi io io non l'ammetto proprio, per costituzione, sa ti ti ho un bel bicchierone d'olio di ricino? olio di ricino? eh già, oggi l'olio di ricino è di moda per il volo, per il cangio, per il sereno, mi disse vaticinando, vinceremo e il regime esalta lo sport, perché sport e regime si identificano in tre sole parole forza, potenza e virilità sei entrata per caso? no, no, no sono venuta per salutare il suo eccellenza non vedi? sono in camicia nera ma quel suo amico è ancora vivo? ma certo, perché? eh no, perché c'è chi beh, c'è chi si è sparato per molto meno non lo sa chi sono io? io sono il suo eccellenza il ministro comodo? eccellenza, le giovani italiane di Montepalco, piere della propria pente nella causa le offrono tutte se stesse, anima e corpo a sua eccellenza? no, alla causa e non credere di farla franca con tutte queste bugie ma non ti sto dicendo bugie, tesoro io capisco trascurare la moglie ma di questi tempi i pezzi grossi vanno rispettati chi è che ti insidi a mia moglie? sua eccellenza, la mandi via subito per carità, prima che succeda uno scandalo magari come magari? ma si, lo sa che a lui queste cose piacciono molto camminati! prima di spezzare questo pane che è la gioia della mensa vi invito a gridare con me prima di spezzare questo pane che è la gioia della mensa a noi No, 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 no.